La sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria ha completato con successo la prima operazione di conversione in euro di beni confiscati in monete digitali. L'attività è conseguente al sequestro di bitcoin monero per un controvalore di circa 11.000 euro avvenuto a gennaio del 2023, quando la prima sezione operativa di Roma e la sezione Criptovalute hanno eseguito otto misure cautelari nei confronti di individui tutti residenti a Napoli e sospettati di appartenere ad un gruppo criminale dedito alla contraffazione valutaria. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte con la collaborazione di Eurojust ed Europol fanno parte di un ampio contesto investigativo iniziato nel 2018 e mirato a smantellare una rete di distribuzione di banconote contraffatte attraverso il dark web, canali telegram ed il trasferimento di criptovalute come bitcoin e monero su wallet dedicati. Nel corso delle operazioni, le criptovalute sequestrate erano state trasferite dalla sezione Criptovalute su portafogli dedicati attraverso l'uso di tecniche e software sviluppati direttamente dal reparto specializzato dell'arma che consentono la creazione dei wallet garantendo, oltre ad un'elevata sicurezza, anche una gestione particolare delle chiavi private e C-Phrase. Le criptovalute oggetto di sequestro sono state confiscate con decreto emesso dall'autorità giudiziaria di Napoli, la quale ha disposto la conversione ed il trasferimento al fondo unico di giustizia. Pertanto i carabinieri della sezione Criptovalute insieme al personale dell'exchange italiano Young Platform hanno provveduto al trasferimento ed al cambio in euro per il successivo deposito al FUG delle somme oggetto di confisca.